Come tutti gli anni, una voce un po' fuori dal coro, presentiamo sempre la videoproiezione che qui non è proprio di casa, abbiamo GVC 4K nativi, audio-video Martin Logan per quanto riguarda i diffusori elettrostatici e poi abbiamo elettroniche Anthem che stanno dando grandi soddisfazioni. Il proiettore è quella nota di differenza rispetto a tutti gli altri impiantoni che sta piacendo molto alla gente che entra in saletta. La prima volta che GVC crea un 4K nativo, l'N7 è il proiettore di mezzo della serie che è N5, N7 e NX9 e presentiamo un nuovo firmware con Frame Adapt che permette di avere prestazioni veramente di rilievo. Siamo contenti, abbiamo qua anche Luca Busillo di GVC Italia. Se vuoi venire, Luca, raggiungici. Abbiamo qui GVC Italia che ci ha fatto l'onore di essere presente a questa presentazione. e credo anche lui sia soddisfatto dell'affluenza della nostra saletta. Sì, è una sorpresa da stamattina tantissima gente. Veramente complimenti a chi ha organizzato questo evento. Roma merita questo e anche di più, quindi molta attenzione. E grazie anche a Garman con i nostri prodotti siamo riusciti anche questa volta a dare il meglio di noi, il meglio dell'azienda. Gli appuntamenti in Garman sia nella sede di Via Boezio sia nella nuovissima sede che abbiamo appena inaugurato, showroom con una sala cinema ancora più bella, dove presenteremo probabilmente anche il top di gamma di GVC nei prossimi mesi, l'NX9. Ce l'hanno promesso ma ancora non avevo avuto la risposta, ora si sentiranno forse obbligati con questa intervista. Grazie.